Musica Buonasera cari amici, bentrovati in questo nuovo appuntamento con Prima Serata. Parliamo questa sera di un argomento importante della casa, alla ricerca del tesoro casa. Abbiamo voluto intitolare così questa puntata perché ci siamo resi conto che è un argomento importante da affrontare e come si sente dire spesso si fa sempre più difficoltà a trovare casa per i lavoratori, per gli studenti, tanto turismo che viene, che bussa le porte della nostra città che da una parte è una benedizione, dall'altra però bisogna gestire tutto questo. In una situazione della politica della casa che è un po' da rivedere. Come ci raccontano questa sera i nostri ospiti, due di loro sono in studio, Alberto Bragheffi, coordinatore del settore abitare della cooperativa Energie Sociali, bentrovati, grazie per essere qui. Grazie mille dell'invito. E Renato Ferrero, presidente dell'associazione SOS Casa, grazie. Buonasera, saluto gli ascoltatori e grazie per l'opportunità. Ci teniamo veramente a parlare di questo argomento questa sera, poi avremo anche degli interventi registrati dell'assessore Luisa Ceni del Comune di Verona, proprio per il settore della casa. Sentiremo anche la Caritas che ha dato vita a un'iniziativa molto importante per i lavoratori che fanno difficoltà a trovare casa in affitto, stranieri ma anche italiani. E poi avremo anche una rappresentante dell'UDU, Unione degli Universitari di Verona, che ci parla proprio della difficoltà degli universitari di trovare casa e i corsi che sono molto alti anche per le singole stanze. Prima di sentire cosa ci ha detto l'assessore Ceni, vogliamo capire un po' cosa sono queste due realtà, Energie Sociali in particolare, di cosa ti occupi qui e poi SOS Casa. Energie Sociali è una cooperativa attiva sul territorio di Verona e provincia che ha come focus la promozione della persona, dell'autonomia della persona, del suo progetto di vita in senso più generale. Si occupa quindi del tema lavorativo, offrendo dei servizi al lavoro, del tema giovanile, del tema dell'animazione territoriale, di questi spazi a disposizione soprattutto con un focus dei giovani e del tema abitativo. La parte che mi occupo io principalmente è questa, come coordinatore, abbiamo la gestione, definiamola socio immobiliare di diversi appartamenti e inoltre offriamo dei servizi per le amministrazioni pubbliche attraverso l'attivazione di sportelli abitativi, chiamati AISA, in questo caso, agenzia di intermediazione sociale all'abitare, proprio per affiancare quelle amministrazioni che vogliono affrontare la tematica abitativa e che sono, diciamo, un po' scoperte. E che devono affidarsi a chi è esperto. Quindi, come vedete, siamo qua per dare anche soluzioni, però chiaramente ci siamo affidati a voi anche perché conoscete bene questo settore. Renato Ferraro, presidente SOS Casa, cosa fa questa associazione quando è nata? Allora, la cooperativa si occupa di housing sociale, cioè di dare risposte a chi ha difficoltà nel mercato degli affitti, dell'abitazione. È nata nei primi anni doanta, su intuizione di Renzo Fior, responsabile della comunità Emos di Villa Franca, nel solco di un interesse che ha il movimento Emos per il problema della casa. Infatti il fondatore, l'Abbè Pierre, c'è una frase famosa che dice non può esserci vita degna senza un'abitazione decente. Questo è uno dei fondamenti del movimento Emos. Nei primi anni novanta, in realtà, sono partite altre esperienze analoghe alla nostra. È partita la cooperativa La Casa degli Immigrati di Verona. C'era ad omegliare all'esperienza di Don Danilo Rudi, che aveva attivato un'accoglienza per i lavoratori del settore marmo, che cominciavano ad arrivare in quella zona. Attualmente abbiamo una gestione di una cinquantina di alloggi, in cui ospitiamo prevalentemente famiglie di immigrati, ma non solo. Abbiamo anche esperienza di convivenze. Le ultime che abbiamo attivato riguardano ex richiedenti asilo, che è una categoria particolarmente penalizzata per quello che riguarda il mercato dell'abitazione. Immagino che questi appartamenti non sono tantissimi, non sono pochi, siano tutti pieni in questo momento. Assolutamente. Si viaggia sempre a regime. Allora, adesso parleremo di tutto questo. Andiamo a sentire quello che ci ha detto l'assessore delle politiche abitative del Comune di Verona, Luisa Ceni, rispetto a questo ambito e ha sposto alcuni argomenti dei quali poi discuteremo. Sentiamo. Verona è una città con un grande richiamo turistico, un grande impatto, quindi di enorme masse, soprattutto in estate, che si riversano sulla nostra città e chiedono alloggio. Questo ha trovato un grande sviluppo degli alloggi turistici, evidentemente, che sottraggono comunque residenzialità agli abitanti e ai cittadini. Noi come comuni, come rete dei comuni e tramite ANCI, avevamo presentato ancora l'anno scorso una proposta in cinque punti al governo, chiedendo alcune cose ben delimitate. Non abbiamo ricevuto nessuna risposta, nessuna convocazione per essere anche confrontarci su questi punti concreti che vedevano una serie di interventi possibili. Per quello che riguarda poi Verona, il problema non è solo gli alloggi turistici, non si può neanche colpevolizzare solo una categoria, è sbagliato. Bisogna guardarlo nel suo complesso. Il problema è che abbiamo tantissimi contenitori vuoti, che abbiamo tantissimi appartamenti anche di proprietà pubblica che devono essere riattati e per il quale si stanno cercando, stiamo concretamente cercando dei fondi per riattarli, ma che comunque non sono sufficienti, non resta l'offerta, non sarebbe sufficiente per la grande domanda di abitare che c'è a Verona, che è diversificata e che riguarda tutte le fasce della popolazione, anche fasce di popolazione con buone capacità di reddito. E su tutta la città, su tutte le zone della città. Per quanto riguarda chi non riesce a pagare gli affitti, c'era un fondo e adesso non c'è più. Sì, c'è stato un grosso taglio governativi sul fondo sostentamento affitti, quindi su tutto quello che è un sostegno all'abitare, purtroppo ancora l'anno scorso abbiamo avuto una netta ripercussione sul bilancio comunale e quindi anche l'incapacità, noi come servizi sociali, di supportare tante famiglie veramente in difficoltà. Questo chiaramente poi può portare a condizioni di circoli viziosi, di sfratti e di persone che non riescono ad arrivare a fine mese. Avete anche una commissione che comprende anche agenti esterni, Caritas e altri, che si chiama Abitare. Cosa fate con questo? No, allora questo è un tavolo che è stato recentemente, su cui stiamo lavorando, che si occupa di una di questi gruppi di richiedenti Abitare, che sono le persone più fragili, diciamo, la grave marginalità. Ecco, questo è un tavolo che si occupa di cercare di capire come insieme, perché chiaramente le domande vengono sempre dalle persone, vengono sempre dai cittadini, come insieme cercare di fare un percorso per trovare delle soluzioni condivise. Abbiamo sentito tante tematiche che adesso riprenderemo, Renato, il Comune in mezzo all'esigenza della gente e alla politica governativa, che può esserci o può essere latitante, cosa ne pensi? Beh, è emblematico che il Governo non ascolti le istanze dei comuni, come diceva l'assessore Aceni. Cioè la questione abitativa negli ultimi anni è stata scaricata sugli enti locali e nell'ambito degli enti locali soprattutto sui servizi sociali. Cioè quella funzione che serve a raccogliere i coci quando le situazioni personali o familiari sono compromesse, anziché essere di competenza di una funzione ad esempio urbanistica o edilizia. Quindi diciamo che c'è tutta una cosa da rivedere, a valle c'è questo problema ma sarebbe da risolvere a monte. E perché siamo arrivati a questa valle così ecco? Cosa è successo negli ultimi anni? In modo un po' nascosto però adesso i nodi diciamo vengono al pettine. Vengono al pettine sì e dopo dobbiamo affrontarli come diceva Renato solamente quando sono delle emergenze. Perché noi stiamo parlando di una crisi abitativa più in generale. Stiamo facendo i conti con un sistema costruito nel dopoguerra del secolo scorso con un modello di società che attualmente non è più quella. Nel dopoguerra si erano costruite molte case, case popolari soprattutto. Si era dato un focus a quello che era l'accesso all'abitazione anche all'acquisto della proprietà, della casa. Non a caso infatti in Italia siamo con l'80% di persone che possiedono una casa e il rimanente 20% nell'ambito dell'affitto. Di queste persone che sono in affitto ci stiamo rendendo conto ed è il sintomo di questa crisi abitativa che le difficoltà stanno crescendo. Perché? Perché gli affitti crescono, perché non riescono ad accedere ai famosi mutui per l'acquisto di nuove abitazioni perché al tempo stesso lo Stato ha ridotto l'investimento di quello che era nella casa popolare e stiamo facendo poi i conti con un sistema che ormai è passato ma che dobbiamo assolutamente rivedere per far fronte a una nuova esigenza che è la società ad oggi. Da una parte Alberto c'è anche idea a dire che gli stipendi, per esempio parlando dell'Italia sono diciamo calati addirittura di un 3% dice un documento che era stato redatto ancora a gennaio 2024 intitolato verso un social forum dell'abitare redatto proprio dalle associazioni e dalle varie realtà che si occupano di questo. Un 3% di calo a fronte per esempio di un andamento totalmente diverso per gli stipendi in Francia e Germania aumentati negli ultimi anni del 20-30%. Quindi anche questo diciamo va ad incidere. Assolutamente, non a caso infatti noi parliamo di working poor cioè di quei lavoratori che rimangono comunque poveri nonostante abbiano un lavoro più o meno dignitoso ma che comunque con gli stipendi che riescono ad avere, medi non riescono più ad accedere ad un bene così essenziale che è quello della casa dove poter strutturare il loro progetto di vita. Però c'è da dire anche come si è arrivati a questo punto perché lo Stato, come è successo, che si è disinteressato di una politica che possa sostenere le famiglie, sostenere diciamo chi non è ricco che ha bisogno di vivere, come dicevano l'abbé Pierre per sostenere le persone in grave marginalità ma non solo. Lo Stato ha disinvestito fino, allora, dicevamo prima del dopoguerra fino agli anni 90, metà degli anni 90 con i famosi piani Genskand c'era questo investimento anche nella costruzione di, soprattutto, di case popolari stavamo parlando di circa un milione di case popolari costruite in quegli anni dopo gli anni 90 si è come pensato di dire beh, le case popolari non ci servono più cioè ormai incentiviamo magari l'acquisto della proprietà e le case popolari smettiamo di finanziarle smettiamo anche di finanziare politiche abitative rileghiamo piuttosto, come diceva Renato prima agli enti pubblici, locali, qualsiasi tipo di iniziativa e cosa ci siamo ritrovati? Che a fronte di una maggiore domanda di casa dall'altro lato abbiamo avuto sempre meno una offerta, soprattutto pubblica anzi, addirittura ce la siamo diminuita perché spesso e volentieri abbiamo svenduto patrimonio pubblico per ragioni soprattutto economiche non avendo più agevolazioni e finanziamenti gli enti locali che si occupano di case popolari dovevano vendere per poter far cassa e andare a fare quelle opere di manutenzione ordinaria non parliamo di quella straordinaria per poter dare in locazione e assegnare questi nuovi alloggi si calcola che in Italia ci siano circa 800.000 case popolari e circa il 10% di queste siano attualmente vuote oppure non assegnabili perché non hanno i requisiti di assegnabilità Renato su questo cosa hai da dire? Nel senso che ci sono gli appartamenti c'è bisogno, non si trovano i fondi per ristrutturare rimangono fermi ecco come ci si muove? Qual è la conseguenza di questo meccanismo? La conseguenza è che sono esplose le graduatorie di richiesta delle case popolari cioè voglio dire attualmente in Italia abbiamo 700.000 domande ammesse in graduatoria abbiamo appena sentito da Alberto che la dotazione attuale di case popolari è di 800.000 quando daremo risposta a queste 700.000? Faccio l'esempio di Villafranca che è il territorio che conosciamo bene l'ultima graduatoria prevedeva 160 famiglie ammesse ora a Villafranca si assegnano mediamente 4-5 case all'anno quelle che si riesce a mantenere allora 160 domande 4 assegnazioni all'anno si va presto a capire in quanti anni potremmo esaurire la graduatoria ha accennato l'assessore Acceni ai fondi che sono stati tagliati parlava del sostentamento affitti ma c'è anche l'amorosità incolpevole che ha risolto tante situazioni in caso di inadempienza non dovuta al locatore all'affittuario parliamo anche del reddito di cittadinanza che prevedeva una quota esplicita per l'affitto i 280 euro che potevano essere concessi a fronte del pagamento dell'affitto e quindi scusa adesso questo fondo non c'è più è depotenziato fa fatica a sostenere tutte le persone di cui ne avrebbero bisogno cosa è successo? che alla fine sono i servizi sociali dei comuni con le loro dotazioni che hanno a dover rispondere anche a quello che prima implicava invece o consentiva invece uno stanziamento di fondi da parte dello Stato Renato faccio un passo indietro la residenzialità diciamo statale chiamandola così l'edilizia residenziale non deve per forza essere persone poco abbienti giusto? la politica dello Stato forse anche di altri Stati in questo momento più organizzati del nostro è quello proprio di sostenere le persone non per forza di soccorrere le emergenze perché ormai si è finiti così e si creano dei ghetti magari anche in queste case ecco dateci un panorama che ci toglie dalla bolla in cui siamo finiti e che invece forse non è così corretta allora hai parlato giustamente di ghettizzazione perché cosa sta succedendo? con un patrimonio che invecchia con assegnazioni a vita praticamente con un invecchiamento di tanti assegnatari che risalgono ancora gli anni 70-80 del secolo scorso le nuove assegnazioni sono spesso a famiglie di immigrati con difficoltà di convivenza con tensioni con scontri tra etnie ecco questo che sta succedendo è che è un degrado del patrimonio di case popolari ancora esistente e adesso noi andiamo ad ascoltare perché sono tante le tematiche che buttiamo sul tavolo questa sera ma verso la fine parleremo anche di esempi virtuosi e di cosa è possibile sognare anche con la concretezza di ciò che esiste ma andiamo a parlare anche di una soluzione ad una problematica la Casa Sant'Angela della Caritas di Ocesana Veronese dà la possibilità di una camera a lavoratori spesso stranieri ma anche italiani che hanno un lavoro a tempo indeterminato un lavoro stabile ma per questa pochezza di case a disposizione e case in affitto o anche alle volte per la diffidenza dei privati che hanno paura poi di avere problemi con gli affittuari che magari per qualche maniera non paghino ci hanno detto anche che quando un cognome è straniero spesso si tende a storcere un po' il naso quindi anche qua andiamo a sentire l'esempio di questa casa nelle parole di Damiano Conati Quante persone sono qui attualmente? Quanti posti avete? Allora la casa oggi può contenere 40 persone per cui è tutta piena è tutta occupata ci sono queste quasi tutte camere singole un bagno ogni 3-4 persone e 5-6 punti cucina dove le persone hanno i loro spazi divisi per camera quindi delle credenze nei frigoriferi eccetera dove possono appunto cucinare e poi andare a lavorare perché molti fanno turni notturni quindi dormono di giorno altri lavorano di giorno e quindi sono qui la notte c'è un bel via vai di persone ecco quindi un progetto nuovo per andare a colmare queste esigenze importanti cioè la mancanza di appartamenti che si manifesta per tutti sì il problema casa è un problema enorme è un problema nazionale cioè non è solo di Verona ne parlavamo anche con altre caritas a livello italiano e soprattutto qui nel centro storico di Verona è un problema molto grande perché molte case molte strutture qui sono diventate turistiche e quindi si fa fatica a trovare una casa e poi se tu sei straniero se hai un cognome straniero o semplicemente il colore della pelle è diverso si fa fatica a trovare chi ti dà l'affitto da una parte si può capire la paura ma dall'altra spesso non è giustificata perché le persone poi hanno un comportamento positivo sì noi qui possiamo dire che non abbiamo mai avuto problemi adesso è qualche mese che questa struttura è aperta e non ci sono stati problemi è chiaro che magari qualche errore di qualcuno in passato può influire nella mentalità delle persone ma in realtà qui si parla di lavoratori che hanno dei bei contratti dei bei stipendi possono pagare regolarmente il loro affitto e che spesso appunto questa paura delle persone ad affittare porta che ci siano molte case che sono vuote che non sono state affittate piuttosto di darle a uno straniero oppure anche io penso anche agli italiani magari per colpa del loro passato di qualche errore che hanno commesso magari sono stati detenuti in precedenza eccetera e anche questo fa sì che ci sia una fatica a dare una casa in affitto a una persona che magari ha commesso errore in passato e che adesso ha tutta la volontà e il desiderio di mettersi in gioco e di fare la sua vita Dal vostro punto di vista in chiusura cosa si può fare? Allora noi sicuramente questo è un segno noi come Caritas non possiamo stare in silenzio e star fermi ad aspettare quindi questa casa qui è un segno che abbiamo voluto dare come dire che c'è la possibilità di mettere in piedi un progetto questo noi lo chiamiamo hotel sociale quindi in concreto si può fare qualcosa e noi lo stiamo facendo come Chiesa di Verona anche grazie alla volontà del Vescovo che ha fortemente voluto questa struttura poi c'è anche un discorso di dialogo di incontri politico infatti ci sono degli incontri in comune con varie associazioni veronesi tra cui appunto anche noi della Caritas per cominciare a parlare con le istituzioni pubbliche su questo problema della casa e costruire insieme un qualcosa che possa coinvolgere un po' tutti per il bene appunto delle persone ecco il bene delle persone è quello che siano italiani stranieri e quindi la Carita sta facendo un lavoro in questa direzione e l'appello è anche che possano stare attenti in questo anche le varie istituzioni cosa pensate di quello che avete sentito quanto sentite vostro e penso anche quanti stranieri ci sono qua che hanno sono il tessuto produttivo anche alla fine io ho un paio di riflessioni la prima è che questa è sicuramente una delle risposte nuove che possiamo dare al tema abitativo non dobbiamo per forza focalizzarci sul dare un'abitazione a tutti cioè questo tipo di residenze ad ita hotel sociale come lo chiamava può essere un modo di rispondere a un'esigenza temporanea di chi viene a vivere un territorio per vari motivi in questo caso stiamo parlando proprio di lavoratori che guarda caso tra l'altro sono proprio quei lavoratori che ci permettono di andare avanti di portare avanti la produzione industriale non so penso a grandi gruppi industriali che ci sono nel nostro territorio che hanno bisogno di mano d'opera che hanno bisogno di persone che vadano a lavorare perché altrimenti chiuderebbero dalla sera alla mattina ma bisogna dare una risposta abitativa a queste persone come le abbiamo con una casa questo potrebbe essere anche una è sicuramente una prima risposta una sorta temporanea in attesa magari di un passaggio di costruzione di quello che è il proprio progetto di vita e che comunque dà sicuramente un tipo di risposta l'alternativa quale sarebbe? dobbiamo domandarci anche questo c'è qualche lavoratore che ha tempo indeterminato che vive in giro e naturalmente quanto tempo poi riesce a tenere un lavoro con la dignità con l'attenzione con la freschezza vivendo in strada noi abbiamo chiamato anche Lorisa Vacari che però vedo con un'inquadratura diciamo non proprio prego di sistemare l'inquadratura Lorisa che è la referente per il Sunia CGL Verona il sindacato degli inquilini grazie alla quale anche stiamo realizzando questa puntata ci siamo visti nei mesi scorsi abbiamo capito l'importanza di questa tematica quindi grazie anche a lei buona serata e prego di intervenire in base a quello che ha sentito anche finora Lorisa abbiamo parlato di tante tematiche non so se ci stai sentendo c'è una sovrapposizione tra la tv e il telefono allora in questo caso devi abbassare esatto il volume della televisione per sentire solamente dal telefono eccoci qua eccoci qua il sindacato naturalmente sta attento alle esigenze delle inquilini e si fa interprete di tante situazioni dove non si riesce a trovare un appartamento in affitto quindi cose che tempo fa era più facile riuscire a rimediare adesso è difficile cosa hai da dire dal punto di vista del sindacato allora intanto condivido quanto è stato detto e soprattutto l'allarme che anche stasera viene lanciato no perché credo che non sia ancora sufficientemente percepito questo problema questo problema che è molto grave molto pesante al Sunia vengono persone che sono davvero in condizioni molto molto difficili parliamo di persone che hanno un lavoro hanno una famiglia hanno dei figli sono in grado di pagare l'affitto ma hanno ricevuto lo sfratto esecutivo non per morosità ma per per cessazione del contratto e quindi hanno bisogno di un alloggio che non trovano non trovano a meno che non siano disposti a pagare cifre esorbitanti e questo ovviamente non rientra nel budget di molte famiglie o di molti single che vogliono farsi una vita indipendente dalla famiglia veniva detto prima lo ribadisco anch'io il problema è che purtroppo la casa è associata inevitabilmente anche al problema del lavoro del lavoro povero del lavoro precario del lavoro che non è sicuro e quindi tutto questo rende meno rende bassa la disponibilità delle famiglie io vorrei sottolineare come nel veronese ci siano molte case sfitte più di 100.000 e sono sfitte perché i proprietari decidono di non affittare o di non ristrutturare oppure non hanno nessun bisogno economico e quindi preferiscono non rischiare in molti casi perché se poi non mi pagano l'affitto se poi mi fanno danni è solo una perdita e Lorisa è aumentato questo atteggiamento di diffidenza è aumentato negli ultimi anni cosa dicono i dati o comunque le persone che sono qui è aumentato moltissimo dopo la pandemia dopo la pandemia la società ha cambiato volto ha cambiato umanità ha cambiato secondo me anche la capacità empatica verso chi ha bisogno chi è in difficoltà è cambiato e io vedo un prevalere del profitto del guadagno di sfruttare al massimo le situazioni allora noi come come sindacato cerchiamo attraverso i contratti di locazione di far ottenere una un affitto medio che sta dentro in un reggio previsto dalla normativa ovviamente e molte volte ci tocca discutere pesantemente con i proprietari perché vogliono applicare un canone maggiore maggiorato rispetto a quanto è previsto dalla normativa per chi vuole fare un contratto per esempio 3 più 2 quindi avere un'alicota agevolata la cellulare secca e quant'altro quindi sì la situazione credo sia notevolmente peggiorata perché c'è molta diffidenza e volevo chiedere a Renato perché tutto questo io mi metto anche dei panni di coloro che hanno gli appartamenti da mettere in affitto più che posso prendere meglio è però ecco dove sta il problema poi lì chi è che dovrebbe fare un po' di intermediario non solo il sindacato che dovrebbe agevolare una situazione non un individualismo quello che non abbiamo abbiamo detto che si è smesso di investire nelle case popolari si è passati una forma di sostegno all'affitto è cessato anche quello non esiste una forma di garanzia che tuteli il proprietario non esiste una certezza per il proprietario di avere qualcuno che risponde in caso di morosità in caso di danni eccetera c'è qualche tentativo c'è qualche esperienza ma non esiste un'agenzia che si ponga a metà tra il proprietario e l'inquilino e garantisca il buon esito della della locazione questo è quello che manca e poi si parlava appunto dei tanti appartamenti pensando anche a quelli pubblici sfitti non vengono ristrutturati come si può uscire da questo c'è qualche tentativo in qualche direzione perché si potrebbe dire disinvestiamo una parte degli immobili però non è forse la soluzione più adatta qui andiamo già diciamo a una soluzione che noi abbiamo anche praticato in realtà e che stiamo anche osservando recentemente noi come cooperativa nel 2018 abbiamo ristrutturato 5 appartamenti ATER case popolari che erano inutilizzate da anni a Villa Franca abbiamo recuperate ristrutturate a spese nostre la concessione di 15 anni in questi 15 anni noi le assegniamo alle situazioni tra cui quelle che ci vengono segnalate magari ai servizi sociali ma era una dimostrazione che questo patrimonio può essere recuperato e può essere assegnato questi fondi che qualcun altro sembra non trovare allora diciamo che ma questo vale per tutti gli investimenti che abbiamo fatto nel tempo noi come cooperativa in questi decenni abbiamo investito 3 milioni di euro per avere il patrimonio abitativo che abbiamo adesso di nostra proprietà in questo caso una parte ci siamo finanziati con un mutuo una parte le abbiamo trovati con risorse nostre con recuperati un po' con il tempo mano a mano con gli affitti con gli affitti che pratichiamo comunque sono case che costano dai 250 ai 300 euro al mese quindi sono anche sostenibili con le difficoltà di reddito che abbiamo visto prima e adesso vogliamo sentire anche l'esempio perché si è parlato appunto in questi mesi anche del disagio degli studenti è uno degli elementi importanti in tutta questa scacchiera che poi diciamo sono stati scalzati a loro volta dal turismo del quale parleremo appena dopo abbiamo sentito una responsabile una rappresentante dell'Unione degli Universitari di Verona che ci racconta com'è la situazione in questo momento per quanto riguarda le stanze degli studenti in particolare a Verona sentiamo per quanto riguarda la comunità studentesca la situazione è pressoché immutata rispetto agli anni scorsi quello che vediamo è un grosso problema a livello del mercato privato a Verona sono aumentate di molto le disponibilità delle case rispetto al pre-covid è quasi quintuplicata quella che è la disponibilità di alloggi il grosso del problema è che non è diminuito quello che è il prezzo aumentano ancora i prezzi sia al metro quadro c'è stato un aumento del 5% secondo le ultime indagini di immobiliare.it e aumenta anche il costo di una singola che è arrivata oltre i 400 euro su Verona con un aumento anche qui di quasi il 10% rispetto agli anni scorsi e questo cosa verifica poi a cosa porta rispetto all'accessibilità allo studio rispetto all'accessibilità allo studio i problemi sono sempre gli stessi le case costano tanto i 400 euro sono ovviamente al di fuori rispetto a quelle che sono le spese aggiuntive delle utenze e rispetto a tutti quelli che sono gli altri costi che ogni studente deve sostenere per riuscire a percorrere riuscire a portare avanti quello che è il suo percorso universitario questo porta ogni anno persone che cercano dei lavori per cercare appunto di essere più indipendenti per cercare di pesare meno anche sulle famiglie con un conseguente anche scadimento di quello che poi è anche l'esperienza universitaria in senso più lato più si lavora più ci si aliena rispetto a quello che è il mondo universitario meno si riesce anche a frequentare le lezioni molto spesso e più diventa effettivamente un percorso estenuante verso quello che è poi un mercato del lavoro che perpetua questo sfruttamento per quanto riguarda gli alloggi universitari per quanto riguarda gli alloggi dell'ente del diritto allo studio c'è stato un timido aumento nell'ultimo anno siamo arrivati a 483 posti letto che sono ancora insufficienti rispetto alla platea studentesca di quasi 30.000 studenti della nostra università e ora stiamo aspettando delle risposte nuovamente dal ministero sappiamo esserci un progetto di una nuova residenza che dovrebbe coprire altri 130 posti tuttavia ancora bloccato quello che è l'arrivo del finanziamento e quindi l'effettiva anche messa in atto di quella che è l'opera di ristrutturazione poi di disponibilità effettivamente di questa residenza quindi anche questa diciamo la tematica importante penso alle famiglie che hanno meno disponibilità economica l'esigenza sempre di più di studiare andare all'università per essere competitivi però poi se studi fuori alloggio ti trovi cioè fuori città ti trovi in difficoltà e non riesci a fare l'università così come sarebbe giusto cosa ne pensi visto che tu lavori anche nel mondo dei giovani il tema abitativo degli studenti universitari rientra a gran titolo sul tema delle politiche abitative che devono essere messe in campo abbiamo un'università tra cui quella di Verona che sembra più attraente nei confronti di studenti che la scelgono che si spostano per venire appunto a frequentare i corsi dall'altro però abbiamo questa incapacità abbastanza cronica nel nostro paese di dare una risposta alle esigenze abitative degli studenti si è poco investito si sente sempre che siamo in una carenza in un deficit di appartamenti posti letto per studenti vengono messi sul piatto saltuariamente e ciclicamente dei finanziamenti ma poi riusciamo poco a essere efficaci e soprattutto a legare quello che è la tematica del tema abitativo degli studenti universitari con il resto delle tematiche abitative perché noi pensiamo anche a questi studenti che studiano a Verona vengono a vivere a Verona magari piacerà anche vivere a Verona dico beh potrei anche fermarmi a Verona a lavorare a farci una famiglia a fare quello che però se la casa poi non la trovo cosa faccio quindi attraiamo persone attraiamo una ricchezza sul territorio che dobbiamo puntare ad avere e ad alimentare come? cercando delle progettualità abitative ad hoc per questo target in questo caso abitativo e non sono solamente gli studenti da fuori da fuori Verona che vengono a studiare ma anche tanti lavoratori e qui c'è il tema della mobilità professionale tanti anche insegnanti che vengono a fare supplenze piuttosto che altri tipi di lavoro legati al turismo che vengono qui e fanno fatica ancora una volta Sì sono informazioni che abbiamo che osserviamo nella nostra esperienza quotidiana io penso che nel nostro territorio quanti insegnanti sono stati illuminati in ruolo nel nostro territorio e devono spostarsi quindi pensiamo alla fatica di lasciare di lasciare il loro paese magari lasciare la loro famiglia arrivare nella nostra nella nostra zona perché le opportunità di lavoro sono qua e sapere che quantomeno almeno la metà dello stipendio se ne andrà per l'affitto quindi penso che sia una situazione personale difficile da affrontare tant'è che ci sono ci sono delle delle persone che non accettano la proposta di lavoro perché è insostenibile da un punto di vista economico decidono di lasciare sì è così anche Lorisa un tuo punto di vista quanti cercano come lavoratori che vengono si parla tanto del turismo camerieri piuttosto che altri tipi di professionalità tutto il settore alberghiero soffre di questa cosa indecisamente ma non solo il settore alberghiero ma se pensiamo anche gli stagionali dell'arena tutto l'ente lirico e le varie maestranze che servono a me proprio dalla categoria dello spettacolo mi hanno sollevato il problema non trovano alloggi devono arrangiarsi in qualche maniera oppure rinunciare la stessa cosa veniva detto per gli insegnanti perché non c'è solo chi è nominato in ruolo c'è chi anche ha un contratto temporaneo possono essere sei mesi nove mesi cinque mesi e quindi o ha una soluzione abitativa compatibile o altrimenti preferisce rinunciare perché non è sostenibile economicamente la cosa quindi questa cosa la difficoltà dell'alloggio ha una forte incidenza anche sul mercato del lavoro e sull'economia in generale per cui insomma è un problema che andrebbe affrontato ma molto molto seriamente non solo a parole ma prevedendo come veniva detto una politica abitativa che partisse dalle risorse da mettere in campo risorse per recuperare un patrimonio immobiliare dismesso inagibile che in Italia c'è che a Verona c'è ma che non trova soluzione perché non ci sono i fondi e quindi si prevede queste risorse facili recuperarle quanto sarebbe essenziale per innescare dei processi virtuosi e quindi di considerarle una delle priorità ma sarebbe come dire sarebbe un po' una catena che si muove perché se andiamo a recuperare il patrimonio edilizio vuol dire dare lavoro anche alle piccole e medie imprese locali per esempio il settore dell'edilizia ma non solo pensiamo anche al commercio pensiamo a quanti negozi stanno chiudendo o hanno chiuso a Verona pensiamo allo scopolamento dei quartieri con tutti i rischi poi che questo comporta per i pochi residenti cioè c'è una catena di eventi anche economici oltre che sociali che può essere innescato o disinnescato appunto dal fatto che ci sia una disponibilità abitativa e gente che ci tiene a stare quindi a far parte di un tessuto sociale perché la casa è questo che ti dà la possibilità di appartenere anche a una comunità di poter integrarti inserirti in una struttura sociale che altrimenti ti è preclusa con tutte le conseguenze che questo comporta Renato su questo allora si parlava di fondi si parlava di risorse ecco io vedo che negli ultimi anni abbiamo assistito a uno stanziamento di cifre enormi per quelli che sono i bonus edilizi si è vero hanno dato da lavorare hanno determinato una crisi del PIL eccetera ma alla fine hanno riguardato uno zero virgola del patrimonio abitativo hanno privilegiato non i condomini ma le villette quindi cioè voglio dire se abbiamo trovato i fondi per questo tipo di intervento perché c'è stata questa miopia anziché destinare a una politica abitativa più utile più necessaria per le tante situazioni che abbiamo visto che avrebbe potuto innescare esatto altri processi e quindi un altro modo di abitare le città e via via e adesso vogliamo sentire un altro input che ci arriva sempre dall'assessore a Ceni per quanto riguarda il turismo sappiamo quanto è esploso anche a Verona tant'è che è aumentato di molto anche l'affitto per gli studenti stessi e con una serie di conseguenze positive per certi aspetti negative per altri sentiamo cosa ha detto poi riprendiamo l'argomento tanti turisti portano all'allontanamento dai cittadini veri e propri che animano la città i quartieri i borghi beh certo mancano tanti turisti chiedono servizi diversi da quelli che sono i servizi richiesti da un cittadino faccio solo l'esempio banale del negozio cioè il tipo il commercio di prossimità è chiaro che un cittadino ha delle esigenze che non sono esattamente le esigenze che ha un turista che chiede di acquistare velocemente qualcosa da mangiare qualcosa e quindi vediamo snaturare le nostre città vediamo snaturare i nostri centri ma non solo i nostri centri perché man mano si sta propagando in tutti i quartieri anche più periferici chiaramente stiamo assistendo anche a un cambio di commercio è evidente davanti agli occhi di tutti i negozi sfitti i negozi che erano una volta un tipo di commercio tipico della città delle vie belle della città che cambiano completamente e snaturano il centro cittadino non si può incolpevolizzare solo il turismo perché poi c'è tutto il fenomeno anche delle commerce quindi della vendite online quindi è cambiato il mondo e non possiamo pensare di tornare a un mondo di 30 anni fa però è chiaro che dobbiamo fare una riflessione sui no dobbiamo fare una riflessione tagliato gli ultimi secondi ma questo era il grosso dell'argomento cioè il turismo se ne parla tanto cosa pensavate ascoltando questo contributo e poi riprendiamo l'argomento adesso ci stiamo concentrando molto su quello che è questo nuovo mostro della locazione turistica che insomma anche guardando i giornali spesso e volentieri escono articoli su articoli dicendo la locazione turistica i danni che porta questi che sono appena stati citati lo snaturamento dei nostri soprattutto del centro storico dove sorgono continuamente queste locazioni turistiche B&B strutture del genere a svantaggio di una fetta di popolazione che invece quella realtà di territorio di quel centro città di quella città la viveva come diceva prima anche l'assessore si sta anche allargando non è più concentrata al centro storico ma si sta allargando anche i quartieri di Mitrofi con delle anche curiose combinazioni perché spesso e volentieri si vedono loggi turistici dentro a palazzina piuttosto anche fatiscenti o comunque non il classico palazzo del centro bello con le fioriere appese ai balconi quindi ovviamente però bisogna fare anche questo ragionamento almeno quello che ritengo io la locazione turistica è sempre uno degli strumenti che ha un proprietario nel massimizzare quello che è la sua rendita io faccio un investimento devo rientrare di quello che ho appunto ho speso so che con il rendimento magari che mi può dare una locazione turistica avrò un rischio locativo più basso e una maggiore entrata garantita anzi addirittura in un'epoca di piattaforme come Airbnb booking diventa quasi anche insomma diventa anche un gioco cioè nel senso aspetta metto la casa in affitto controllo guardi quanti quanto sto guardando sembra tutto così bello diciamo sembra molto così bello troppo bello per essere vero assolutamente che da ogni punto di vista probabilmente lo è però dobbiamo anche dopo porci qualche domanda cioè nel senso abbiamo visto tutti durante il periodo del covid cos'è successo a tutte le locazioni turistiche ferme tutti andati in crisi perché? perché non eravamo più turisti quindi sono bolle che prima o poi se continuiamo a pensare che di massimizzare questi meccanismi prima o poi tenderanno a scoppiare dobbiamo essere ben piuttosto consapevoli di governarli anche se questo è vero il covid è una situazione straordinaria che è successa probabilmente prima che succeda ancora una volta molto più stabile mi viene da pensare che il turismo avranno a continui bene o male a crescere con qualche magari episodio negativo così sicuramente potremmo fare forse lo stiamo già facendo poi i conti con quello che dopo sono queste città centri commerciali adesso parliamo di Venezia spesso ma a Verona stiamo un po' calcando le gesta di Venezia su questo è possibile mettersi nei panni delle persone che hanno un affitto che ha un appartamento vogliono affittarlo hanno dei soldi facili e come però governare questa situazione Renato e poi anche Lorisa alla fine se facciamo i conti io sono convinto che la rendita non sia così appetibile come sembra e che tutta questa ricchezza ipotetica che porta il turismo resti effettivamente nel territorio qualche perplessità cominciamo dalle piattaforme cioè queste chiaramente non sono entità locali sono sovranazionali sappiamo che gli utili qui vanno a finire paradisi fiscali dall'altra parte dell'oceano eccetera non solo ma noi abbiamo un'idea di un proprietario che affitta uno o due appartamenti qui si stanno strutturando delle società vere e proprie che fanno intermediazione tra il proprietario e l'affittuario e il turista che arriva che mano a mano prendono una percentuale sempre più alta esattamente quindi alla fine il proprietario probabilmente non resta chissà quale rendita perché molta di questa ricchezza viene estratta o dalle piattaforme da queste società di intermediazione c'è da dire anche se posso aggiungere che stiamo vedendo come diceva Renato proprio Airbnb per fare un nome era un po' l'obiettivo era quello di dare un piccolo contributo più o meno a un reddito a delle persone dicendo affitto la mia stanza la casa libera la casa libera l'affitto e allora la domanda che bisogna forse anche questa di dire ma fintanto che rimane un piccolo contributo un piccolo o comunque un sostanzialmente contributo alla mia capacità economica ci può stare ma come diceva Renato quando abbiamo delle grosse società immobiliari che investono e comprano palazzine intere non è l'appartamento singolo del posto letto qui stiamo parlando di palazzine intere e allora lì le questioni cominciano ad entrare molto più pesante e di difficile controllo e anche con degli effetti negativi come accennato tu prima e Lorisa su questo no su questo è proprio così io vi racconto questo questo episodio ho guardato ho ricevuto a casa nella posta quelle pubblicità delle agenzie immobiliari qualche tempo fa dove vendono le case e su ogni vendita c'era scritto si consiglia per affitto turistico ottimo per quindi già quello che viene messo sul mercato viene messo sul mercato con questo a questo scopo quindi allora è vero che non si deve criminalizzare è vero tutto è vero che il privato può fare come crede però dobbiamo renderci conto che questa cosa porta alla desertificazione delle città io sono molto preoccupata perché Verona è la seconda città nel Veneto dopo Venezia per affitti turistici c'è un aumento spaventoso degli appartamenti che vengono dati in affitto quindi io credo che bisogna ragionare anche col comune e con gli assessori su come rendere attraente diciamo così affittare una casa per i proprietari cioè rendere conveniente in qualche maniera e rassicurante per i proprietari tornare ad affittare perché poi io leggevo anche delle proteste di alcuni condomini di più condomini perché l'andirivieni di questi turisti che arrivano a tutte le ore del giorno della notte che non hanno nessun riguardo neanche per quello che è il condominio per quella che è la casa che lasciano come trovano quindi non si preoccupano insomma non è proprio una cosa molto gradita sono anche un elemento di disturbo allora probabilmente è anche vero che tutto sto guadagno poi alla fin fine non c'è quindi bisognerebbe trovare un modo per rendere conveniente affittare gli appartamenti a lungo termine o il 3 più 2 il 4 più 4 non lo so noi abbiamo come sindacati degli inquini abbiamo chiesto anche un incontro agli assessori per poter discutere di queste cose perché una soluzione secondo me è urgente trovarla partendo da quello che abbiamo a disposizione una soluzione diciamo si trova tutto volendo una volta stabilito il bene dei cittadini esattamente è questo che dovrebbe insomma bisogna tornare ad aver cura delle città si parla di riqualificazione ma non si può prescindere dall'aver cura delle persone dei luoghi della città perché altrimenti è tutto visto in un'ottica speculativa e questo secondo me non è accettabile non è accettabile e non va bene grazie tante allora Lorisa Vaccari di Sunia CGL Verona per essere stata con noi buon lavoro grazie ancora per questi grazie a voi grazie a voi arrivederci ecco quindi ragionando proprio ce l'ha servita il fatto che è possibile vivere un altro modo di abitare la città è possibile riscontrare anche tanti effetti positivi la città può essere anche una grande convivenza tra diversità che diciamo insieme collaborano aiutano i singoli ad esprimere la propria ricchezza e su questo cosa potete dire cosa si può fare ecco pensando anche ad esempi che già esistono che vi vedete e vivete allora la città è il luogo per eccellenza di queste tensioni di questa vita che va espressa la città è nata con questa finalità quindi da queste da queste spinte quindi la città è il luogo per eccellenza dove le persone devono avere la possibilità di esprimersi devono avere la possibilità di costruire i propri progetti di vita devono poter sognare e poter anche confrontarsi con gli altri esperienze esperienze pratiche si parla di housing sociale per esempio non so quanto si è presente a Verona raccontateci un po' perché parlando con qualcuno diciamo non si sente molto parlare forse di più in città come Milano assolutamente o forse sono poco pubblicizzate ecco raccontateci quello che c'è e il potenziale non siamo Milano ovviamente che ha la capacità attrattiva di notevoli investimenti a Verona l'unico intervento di housing sociale che è stato costruito nel 2013 2014 attraverso dei fondi immobiliari Fondo Veneto Casa che altro che non è che sono dei fondi di investimento ma che hanno un rendimento molto lento diciamo negli anni e di lunga durata è stato quello di Borgo Roma zona fiera sono circa 77 alloggi di nuova costruzione appunto locati proprio a persone che hanno bisogno di un'abitazione l'housing sociale va a rispondere alle esigenze di chi non riesce ad accedere al mercato e ovviamente ha dei requisiti economici troppo alti per la casa popolare viene applicato il canone concordato quello che prima Baccarri ci ricordava quella definizione di canone che è definito proprio tra proprietari inquilini una via di mezzo che non lascia spazio alla speculazione massima dei proprietari e quindi a questo momento noi riusciamo a affittare dei trilocali a 560 euro trilocali con due stanze da letto due bagni un bilocale a 480 euro e tre stanze da letto a 640 che attualmente sul mercato si fa veramente fatica a trovare in tutto questo l'housing sociale poi si caratterizza anche di un altro aspetto che è forse la parte più innovativa ovvero il ruolo di un gestore sociale in questo caso la mia cooperativa energia sociale si occupa della gestione socio-immobiliare ha il ruolo anche di creare quei servizi o comunque di dare ascolto a quelle che sono le esigenze degli stessi abitanti e di creare quei servizi di prossimità che possano essere un plus un vantaggio per chi vive la città come abbiamo detto in questo momento un complesso condominiale e che possa anche avere dei vantaggi che con la riduzione anche dei servizi che ci sono stati in questo momento in questo periodo storico possa essere un qualcosa di più faccio l'esempio noi in questo momento abbiamo una strutturazione una piccola biblioteca condominiale che diventerà una biblioteca di quartiere come un centro di lettura al pari dei centri di lettura di quelli che possono essere i centri di lettura del comune però è più vicino favorisce anche la socialità breve perché altrimenti oggi lavorisce anche impegnati nel lavoro il coinvolgimento delle persone stesse che vivono in quel luogo è uno spazio terra prima parlavamo degli spazi terra questi spazi che devono essere valorizzati se chiudono le botteghe cosa ci facciamo in questi spazi spazi culturali per esempio che possono essere servizi della cittadinanza poi i servizi non devono per forza trovare posto in un luogo come questo della biblioteca che vi ho portato però noi abbiamo anche altri piccoli servizi di prossimità stiamo lavorando su un bike sharing di condominio bike sharing in modo da poter dire ma perché dobbiamo avere tutti una bicicletta perché dobbiamo possiamo condividere anche delle risorse faccio l'esempio anche del carrellino portabiciclette che spesso e volentieri nelle giovani coppie con figli è molto ambito ma che e questo dà l'occasione se si trovano accordi ma insomma immagino che si riesca anche a fare a aumentare il dialogo la conoscenza alle volte mancano le scuse per mettersi in moto per mettere in moto un dialogo Renato certo l'housing sociale ha questo denominatore che è diciamo la partecipazione la collaborazione con il coinvolgimento nella gestione degli alloggi nella gestione del condominio quando assistiamo invece a questo isolamento che è tipico dei nostri tempi ecco volevo partire da questa considerazione del senso sociale per parlare invece di prospettive di possibilità ma che già stiamo osservando cioè quali buone pratiche come questa che ha evidenziato Alberto cioè se stiamo osservando in generale a un dissolvimento dell'U-A-L-F-E-R così lo chiamiamo ma lo vediamo in tutti i settori perché parliamo di sanità sappiamo cosa sono le liste d'attesa qual è il grado e la qualità dell'assistenza parliamo di istruzione parliamo di previdenza cioè che io credo che nel nostro ambiente in questa difficoltà di questioni abitative di cui abbiamo parlato il terzo settore abbia un ruolo il no profit ma anche il terzo settore in generale l'associazionismo il volontariato sia direttamente che anche come stimolo agli enti pubblici cioè noi osserviamo delle buone pratiche che già fanno parte della nostra esperienza naturalmente bisogna muoversi in rete perché da soli non si ottengono chissà quali risultati noi qui nel territorio veronese ci stiamo parlando lo facciamo con le altre entità di housing sociale che è Energie Sociali che è Casa Immigrati di Verona che è l'associazione oltre i confini di Don Paolo Bolognani nella zona del Baldogarda questo dialogo adesso è stato diciamo amplificato da quel coordinamento abitare Verona di cui ha parlato l'assessore Accenzi di cui si parlava prima che coinvolge anche altre entità che si occupano anche di senza fissa dimora non solo di questioni abitative ci sono buone pratiche che stiamo osservando parlavo prima di recupero di patrimonio pubblico qualcosa si sta muovendo anche sul comune di Verona perché l'Agec sta assegnando alla cooperativa la Casa degli Immigrati cinque appartamenti che verranno recuperati e assegnati e gestiti secondo le logiche di accompagnamento che sono tipiche delle nostre cooperative nel nostro piccolo diciamo abbiamo qualche esperienza significativa di collaborazione locale vorrei citare l'esperienza di Fumane per esempio con il gruppo di Caritas Locale con cui abbiamo fatto un investimento abbiamo individuato una casa da sistemare l'abbiamo sistemata con il determinante contributo delle persone dei volontari di Caritas è stata assegnata a quattro richiedenti asilo che uscivano dal percorso Sprare che avevano precluso il mercato ed è un'accoglienza che sta funzionando ed è un'accoglienza che sta funzionando se non sbaglio l'abbiamo visitata anche se è creato attorno a questo gruppo di immigrati affidabili anche una bella socialità di persone quindi il paese stesso era giusto non averne paura è stata la continuità di un'accoglienza che già era in essere da parte dei volontari locali ecco credo che questo dialogo dia delle prospettive come per esempio osserviamo nell'Ovest Veronese un progetto che sta partendo in queste settimane promosso dal distretto 4 dell'ex ULS 22 di apertura di agenzie sociali per l'abitare sul modello di quanto ha fatto energie sociali per il comune di Verona in breve ecco cosa fanno queste realtà l'idea è quella di convogliare su questi attori queste agenzie sociali la tematica abitativa in modo che possa essere un'antenna del territorio che possa recepire dei bisogni e soprattutto possa anche fare questo dialogo con quella che è l'offerta delle case e che possa andare a costruire delle progettualità come questa che ha portato Renato o altre e soprattutto anche portare quei meccanismi di garanzia come diceva prima la Vaccarri ai proprietari che possano insomma rimettere nel circuito della locazione i propri immobili e non lasciare da sole le persone alla ricerca di una casa con il coltello dalla parte non del manico assolutamente vediamo anche dall'altro lato questo comunque un affiancamento anche da parte dei proprietari dimentichiamoci che c'è anche il loro ruolo di questo quindi vi ringrazio potremo andare avanti ma il tempo è arrivato al termine vi ringrazio tanto come si può entrare in contatto con queste agenzie fra l'altro che dicevi chi fosse interessato nell'Ovest veronese e cosa deve cercare su internet o chi affidarsi allora attualmente sull'Ovest veronese quindi stiamo parlando Bussolengo quella zona del Lago di Garda è attivo il progetto Affitto Ambito basta digitare Affitto Ambito su internet si può trovare che è un piccolo progetto di garanzia e contributi a un proprietario che intende dare la propria abitazione in affitto e sul nuovo progetto invece che stiamo strutturando siamo ancora in fase di lavoro e quindi energie sociali e SOS Casa insomma possiamo cercarli su internet grazie per il vostro lavoro prima di tutto e anche per il vostro contributo di questa sera grazie a te grazie per essere stati con noi grazie anche a voi per l'ascolto grazie anche a chi ci ha seguito dall'altra parte della regia Michael Camau Fabrizio Spiazzi Andrea Peretti ancora grazie e buonanotte grazie a tutti grazie a tutti